Grave incidente sul lavoro stamattina a Olbia, nei pressi della spiaggia delle Saline, un operaio di 62 anni, dipendente di una dita che si occupa della manutenzione del verde, ha perso la mano a causa dell'esplosione di un ordigno artigianale nascosto tra i rifiuti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, insieme a un collega, stava ripulendo il giardino quando un ordigno, sembra un grosso petardo, è esploso devastandogli la mano. Scattato l'allarme sul posto, sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al ferito e lo hanno trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II, ma le condizioni della mano non erano così compromesse da rendere necessaria l'amputazione. I carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno fatto intervenire il nucleo artificieri dell'arma per accertare la natura dell'ordigno e verificare l'eventuale presenza di altro materiale pericoloso. I militari, coordinati dalla procura di Tempio Pausania, hanno avviato l'indagine e sentito i testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare chi abbia lasciato l'ordigno nell'area verde. Nelle prossime ore sarà ascoltato anche il ferito. Gli ispettori dell'ospresal della ASL di Olbia hanno fatto un sopralluogo al fine di redigere un rapporto sull'incidente sul lavoro.